Soddisfazione per il ritorno in Italia di un inginocchiatoio del 1860 appartenuto alla Fondazione Banca d'Italia a Roma e che fu probabilmente trafugato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Curiosità per una rarissima teca contenente un completo per la preparazione dei sigari a casa realizzato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Per trovare qualcosa di simile bisogna recarsi a Cuba nel Museo del Tabacco. E ancora meraviglia per la bellezza degli oggetti creati da uno dei più grandi micromosaicisti di tutti i tempi Cesare Roccheggiani o per le originalissime opere di porcellana risalenti al 1920 e raffiguranti deliziose bagnanti. Sono solo alcune delle sensazioni che si possono vivere visitando Teggiano Antiquaria, la mostra Mercato Nazionale di Antiquariato e di Collezionismo in corso presso il Castello Macchiaroli di Teggiano fino a domenica 4 novembre. Come al solito adesso che ho fatto il giro, ho guardato, ho notato, insomma siamo a livelli molto ma molto alti con una roba esclusiva. Cammino tipo bambina incantata perché il livello è altissimo assolutamente, sembra veramente uno scrigno ideale per questo contenuto meraviglioso, entusiasta anche della divisione del piano terra con i collezionisti, del piano centrale diciamo con gli anni 20, Art Deco, Modernariato e l'ultimo Antiquariato che è proprio la chicca con dei pezzi eccezionali. In primo piano la sezione dedicata all'Antiquariato Classico ma anche quella riservata al Modernariato e al collezionismo. Gli espositori arrivano da tutta Italia a partire dal Veneto fino alla Puglia e alla Calabria. Il clou dei visitatori è atteso per tutto questo primo fine settimana di novembre.